Salve e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Si sono tenuti questa mattina nella chiesa di Santa Lucia i funerali e il ragazzo Somolo ha aggiunto cadavere insieme alla nave che ha portato in salvo altri migranti al porto di Augusta. La funzione è stata doppia, sia cattolica che musulmana. Piazza Santa Lucia ha appena terminato il funerale del ragazzo Somolo giunto, morto sulla nave con gli altri ragazzi stranieri al porto di Augusta qualche giorno fa. Si è svolto il funerale con la doppia veste, quella cristiana, cattolica e quella anche musulmana e la messa proprio sotto il pontile della chiesa è stata svolta sia dal prete che dall'imam. Entrambi hanno avuto parole di pietà ma anche di condivisione. Ci sono dei tratti comuni tra le due religioni che parlano del rispetto umano e del rispetto della persona. Tanti sono stati anche i ragazzi extracomunitari che hanno partecipato alla funzione, l'ovvia, commozione ma nei loro volti anche la volontà di far capire cosa significa essere straniero in terra straniera, cos'è lo spaisamento, cos'è la paura e poi l'epilogo spesso drammatico, quello che le cronache di questi giorni raccontano nel ragazzino Somolo sulla spiaggia turca che è diventata in qualche modo il simbolo di cosa significhi trovarsi coinvolti in una situazione più grande di sé come spesso queste stesse persone vivono, ovvero l'allontanarsi da zone di guerra, mettersi in viaggio in maniera anche pericolosa al rischio della propria vita, della propria integrità. Quali sono state le parole che le hai usate per mettere insieme le due anime, quella musulmana, quella cristiana, quella locale? In che modo si riesce a unire le due cose? Ma si riesce facilmente perché la decendenza è una, l'origine è una, la fonte è una, quella dell'altissimo, del Signore che ha creato il mondo, il compassionevole e misericordioso. Queste sono tutti la compassione del Signore, la sua misericordia, la sua grazia, tutto questo ci mette tutti insieme. Il resort annunciato ad Ognina martedì, la conferenza dei servizi, il Comune di Siracusa valuterà adesso la proposta, dice senza alcun pregiudizio. Il Comune ha l'obbligo di analizzare iniziative che prevedono investimenti importanti per il territorio, sempre tenendo conto che tutti i progetti devono essere compatibili con i vincoli esistenti. Per l'amministrazione comunale sulla proposta per la realizzazione di una struttura ricettiva ad Ognina sarebbero state fornite informazioni errate e prova a fare chiarezza prima di tutto sulla conferenza dei servizi che martedì inizierà solo ad analizzare il progetto. Il progetto stesso è depositato all'ufficio urbanistica e chiunque può visionarlo nella proposta presentata. Le strutture sono a 300 metri al mare in un'area che non è sottoposta a vincoli stringenti come nel caso della pillirina. In risposta a SOS Siracusa l'amministrazione comunale afferma che mentre per il resort che si voleva realizzare proprio a penisola della Maddalena è stato detto che non era tecnicamente possibile costruirlo, in questo caso invece ci si troverebbe di fronte a un'iniziativa che tecnicamente può essere invece realizzata. Da queste considerazioni l'esigenza di non poter dir no a prescindere a progetti che possono dare respiro dal punto di vista occupazionale ed economico alla città oltre a rilanciare l'intera zona di Fontanebianche e Ognina. Proprio per queste ragioni l'amministrazione ha detto di voler fare i dovuti approfondimenti in conferenza dei servizi analizzando ogni aspetto e la proposta e prendendo poi una decisione tenendo ben a mente il rispetto dei vincoli e dell'ambiente. Ancora si parla di tasse lo fa anche il vicepresidente regionale di Forze Italia e di Bandiera che propone un manifesto per invitare l'amministrazione ad adottare le opportunità di sblocca Italia. Si chiude una settimana che si era aperta con l'approvazione da parte della maggioranza del Consiglio Comunale delle aliquote o meglio la maggiorazione dell'aliquota per la Tasi. In realtà si aggiunge alla Tari che già come bollettini viene recapitata presso il domicilio degli utenti e adesso insomma fra Tari, Tasi ed altro non si raccapezza più e il progetto comune intende fare chiarezza innanzitutto con un manifesto. Sì assolutamente sì, oggi abbiamo ufficialmente presentato il manifesto che già ieri è stato affisso nelle vie cittadine che è un manifesto di denuncia e che nel contempo ci fa tenere fede a un impegno che abbiamo preso con i nostri concittadini nel rivolgere un appello ai consiglieri comunali tutti di maggioranza e di minoranza richiamandoli al proprio dovere, ricordandogli la propria voglia di tutelare i siracusani e di rappresentarli. Abbiamo chiamati a uno scatto di orgoglio e di dignità e cioè di non tenere il sacco a questa scellerata, ennesima ipotesi dell'amministrazione a guida sindaco Garozzo di aumentare ulteriormente i tasi, la proposta iniziale è di un aumento del 23-27% che poi attraverso questa iniziativa anche mediatica ritengo siamo riusciti a far scendere al 18% quindi di non aumentare la tasi e di tenere fede a questo patto che hanno fatto con gli elettori. Denunziamo con forza l'ennesimo aumento della pressione tributaria che nella città di Siracusa è ben sopra la media nazionale, siamo arrivati in circa da studi che abbiamo fatto al 26,7% a fronte di un 22% nazionale e un'amministrazione Garozzo che quindi applicando quest'ulteriore 18% di aumento alla tasi va a mettere mani nelle tasche dei cittadini, commercianti e famiglie di Siracusane per ulteriore 1 milione barra 1 milione 100 mila euro di ulteriore prelievo. Anche è vero che il Comune sta intervenendo attivando con il baratto amministrativo. È noto che nei giorni scorsi abbiamo sollecitato noi di prendere spunto da quanto previsto dallo sblocchitali, ora siamo soltanto a un timido annuncio, qualcosa faranno. Verificheremo nel dettaglio, anche perché ahimè noi temiamo che questa amministrazione se continua con questo stato di cose, se continua con gli sperperi costanti, in patrocini onerosi, contributi e consulenze, oggetto anche di sequestro di atti da parte delle forze di polizia giudiziaria, difficilmente questa è un'amministrazione che potrà fare a meno di fare sconti a cittadini in cambio di attività lavorative prestate. Discussione invece per quanto riguarda la Tari, le tratte sarebbero troppo vicine le une alle altre. Rivedere le scadenze per il pagamento della tassa sulla raccolta dei rifiuti, ad avanzare la proposta il consigliere comunale Salvo Sorbello, secondo il quale le famiglie e le imprese siracusane sono travolte da un ingorgo di imposta ed è impensabile che in pochi mesi si debbano pagare importi cospicui per la Tari con scadenze mensili. Nell'attesa che si chiarisca la vicenda, Tasi suggerisce quindi di dilazionare le rate della Tari spostandone qualcuna al 2016, come già hanno fatto numerosi comuni italiani. anche perché non si conosce ancora l'importo della quarta rata con guaglio, che sarà inviata in seguito e verrà conteggiata sulla base dei calcoli che emergeranno dal piano economico finanziario 2015, non ancora presentato dall'amministrazione comunale, anche se è stata fissata la scadenza del 16 dicembre 2015. A fronte di un servizio inefficiente e di una raccolta differenziata sbandierata e mai partita, conclude il consigliere comunale, non è possibile chiedere alle famiglie e alle imprese sacrifici economici così pesanti in un lasso di tempo troppo ristretto. Ci fermiamo, c'è la pubblicità per qualche minuto, ci vediamo tra poco. Entra nel mondo Gemar Tuffati in un mare di offerte Supermercati Gemar Sul reparto abbigliamento, sconti del 60% L'unico viaggio che dovresti fare quest'estate è solo dentro il tuo cuore, non abbandonare il tuo cane. Pubblicità mirata a sensibilizzare sul fenomeno dell'abbandono promosso dall'Arca di Noè. Arca di Noè, grande assortimento di prodotti per offrire una scelta ampia. Personale di grande professionalità pronto ad ascoltare e soddisfare ogni richiesta, rendendo l'esperienza di acquisto semplice e piacevole. Grande varietà di offerte e attività promozionali sempre nuove, all'insegna di risparmio e convenienza. Arca di Noè, la passione per gli amici a quattro zampe. A Siracusa, in via Unione Sovietica 31-33. Bentornati, seconda parte del nostro telegiornale. Capriamo con la cronaca per degli interventi e la polizia per l'arresto di un uomo che spaccia sostanze stupefacenti, ma anche per due persone che hanno effettuato un furto aggravato, un tentativo di furto aggravato. Arrestato dalla squadra mobile di Siracusa nella flagranza del reato di detenzione e fini di spaccio di droga, Giuseppe Nastasi, 41enne siracusano. Durante la prequisizione domiciliare effettuata presso la sua abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto tre stecchi di ascisce di un gramma e mezzo già pronte per lo spaccio, due pezzi della stessa sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 73 grammi, un bilancino elettronico di precisione, un coltello ed il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Nastasi è stato posto agli arresti domiciliari. Sono stati sorpresi dagli agenti delle volanti in via Carlentini a Siracusa mentre tentavano di asportare materiale elettrico da una cabina Enel. Protagonisti un marocchino di 26 anni e un siracusano di 22. Nei loro confronti è scattata una denuncia per i reati di tentato furto aggravato, porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso e danneggiamento. A Priolo gli agenti del commissariato hanno deferito in stato di libertà un 24enne per il reato di furto e danni di una dipendente del box office di un terminal di Aliscafi a Milazzo. I fatti si riferiscono al 3 luglio scorso quando il giovane in partenza per l'isola di Lipari. Si era impossessato dello smartphone posto sul banco dello sportello della biglietteria. Scattate le indagini informatiche a seguito della denuncia della vittima è stato possibile risalire all'identità del giovane che è stato denunciato. Ci spostiamo in via Monteforte adesso per un parco, un parco per bambini che però scatena polemiche, andrebbe riqualificato come chiede a gran voce il Consiglio di quartiere, ma c'è anche un problema per quanto riguarda le deiezioni canina. Il problema del parco di via Francicanava è un divieto di accesso ai cani. Ora la mia non è un non vietare l'ingresso agli animali, non vogliamo buttare fuori gli animali, però siccome è un parco adibito a bambini, esclusivamente a bambini, abbiamo verificato in questi giorni la mentele dei residenti per presenza di zecchie, pulci. Se è un parco per bambini va affidato ai bambini. Una buona amministrazione deve garantire sia i bambini, sia i più piccoli che sia gli animali, perché io sono un animalista per natura e quindi le due cose vanno di pari passo. Non è la mia solo una lamentela, solo un vietare l'ingresso ai bambini. Di fianco abbiamo un piccolo slargo, 7 metri per 10, che informandomi con i vari dirigenti siamo venuti a capo che è essere zona S3. S3 ovvero verde pubblico, destinata a verde pubblico, possibilmente convertirla ad aria per cane. Tenere divisa la zona dei bambini e la zona dei cani. È vero, ad onor del vero, un cittadino prima era con un cane qua e ha detto avete ragione, io il cane non lo porterò più, però qualcuno dovrebbe pulire, perché così le situazioni in cui è, anche questa è una questione igienica che va contro i bambini. Certo, a prescindere dalla questione igienica, perché purtroppo è un momento che attraversa in questo momento Siracusa. I primi siamo noi, noi stessi cittadini, che inquiniamola, perché a casa nostra dubito che facciamo una cosa del genere. Però la mia impressione è che a Siracusa ci stiamo abituando troppo a vedere le cose. Ora, non voglio andare contro il centro storico, perché il centro storico è un gioiellino, è un biglietto da visita e va bene, siamo tutti d'accordo. Però è anche vero che le periferie sono le nostre arterie, le nostre vene. Non possiamo abituarci a vedere i cassonetti pieni. Cioè, chi ha abito? Il bambino che cresce qui a 4 anni, a 5 anni, si abitua a crescere così. Ed è una mentalità sbagliata, è un senso civico sbagliato. Lo sport, rifinitura questa mattina al Desimone, situazioni tattiche per gli azzurri, al termine della seduta anche diramata la lista dei convocati. All'acqua ha detto, dobbiamo partire bene, sia per la società che per i tifosi. Ma è la prima volta che mi succede di non avere nessuno indisponibile nelle squadre dove sono stato. Sempre c'era qualcuno che aveva da scontare delle pene negli anni precedenti. Quest'anno no, ed è secondo me un fattore abbastanza positivo, perché comunque ti dà la possibilità di scegliere in base a quello che è la partita, in base a quello che sarà la nostra disposizione tattica. Cercheremo di mettere in campo, come sempre, quelli che ci danno le migliori garanzie. Queste sono pressioni che voi mettete sul piatto, perché comunque dovete fare il vostro lavoro, dovete piazzare qualcuno in pole position, come se fosse una gara di Formula 1. In realtà è calcio, in realtà è competizione, in realtà è partita dopo partita, saranno 30 e più battaglie, quindi dovremo passo dopo passo costruire quello che poi a noi interessa, cioè quello di arrivare fino alla fine e di stare davanti a tutti. Questo è l'obiettivo, certo. Piacerebbe a tutti avere la possibilità di fare 33 vittorie, 34 vittorie. Non sarà così, perché insomma ovviamente qualcosa succederà, però noi cercheremo, ripeto, di fare il meglio possibile. Sì, la prima di ogni torneo è sempre interno all'otto, non per fare dei confronti riverenti con quelli che stanno in Serie A, voglio dire, ma vedete la classifica così com'è in questo momento, non è veritiera, non lo sarà alla fine del campionato, quindi ci può stare qualche passo falso e diciamo che dobbiamo trovare tutte le maniere possibili per cercare di partire bene, visto quelli che sono gli obiettivi della società, visti quelli che sono gli obiettivi di un'intera comunità, parlo di tutti quelli che ruotano intorno a questa squadra, i tifosi, la stampa, la città, tutti quanti vogliamo partire col piede giusto, cercheremo di fare in modo che questo sia possibile. Quindi una seduta di rifinitura quella di stamane al Desimone per gli azzuri, tutta a disposizione del tecnico per la prima gara di campionato in programma. Domani a Marsala a partire dalle 15, Mascara e compagni sono sottoposti a situazioni tattiche per i 90 minuti complessivi del lavoro di preparazione. E con questo è tutto, il Tè Giornale si conclude, vi auguriamo un buon approfondimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.